Allora, l'ultima volta abbiamo dato il concetto di spazio vettoriale e abbiamo dato soltanto un paio di esempi, non ne voglio dare molti altri, un meno un terzo però lo voglio dare, quindi esempio di prendiamo, chiamiamo v insieme delle funzioni f che sono continue su un intervallo a b della lettera reale e sottinteso al valore in F. Le normali funzioni che avete studiato in analisi. La funzione f più g, com'è definita? La funzione f più g è definita nel punto di x come f di x più g di x, e alla minaccia. Allora, rispetto a questa, questa è un'operazione interna? Sì. Perché è un'operazione interna? Perché se prendete due funzioni f e g appartenenti a v, cioè due funzioni continue, sapete che la somma è ancora una funzione continue. In realtà, tutto fatto, benché facile, la vedete al suo tempo di dimostrare, non è scontato. Esiste l'elemento neutro, chi è l'elemento neutro? Allora, l'elemento neutro deve essere un elemento di v che sommato a una funzione f la lascia dare qua, e chi è l'elemento neutro? Beh, la funzione nulla. L'elemento nullo, come negli esempi dell'altra volta, come nei vettori geometrici è il vettore neutro, come in fm è la n nuclea di tutti i zeri, in questo caso è la funzione nulla. Chi è l'elemento opposto? meno f, f più meno f fa la funzione nulla. È chiaro? Questa somma è associativa? Sì. È commutativa? Sì. Quindi, va tutto bene. Adesso prendiamo gli scalari lambda appartenente a R, quindi il nostro campo K, in questo caso R, e andiamo a definire lambda f. La funzione lambda f nel punto x è definita come lambda per f di x, però ogni x appartenente a v, scusate, un po' scritto x che grande ma è la v, però ogni x appartenente. È chiaro? Quindi, le funzioni si sommano, sì, come i vettori? Sì. Esattamente con le stesse proprietà di vettore. si possono moltiplicare per uno scalare? Sì. Allora, se si comportano come vettori, allora sono vettori effettivamente in tutti gli effetti. Cioè, possiamo dire che questo insieme V è uno spazio vettoriale, per esempio, sul campo R. Ok? Quindi questo qui è un esempio. diciamo, non c'è nulla che sia difficile da verificare, però capisco che uno già adesso ha da poco osservato che in realtà i vettori geometri hanno delle proprietà, ha da poco osservato che le ennupole di numeri reali, o per esempio le coppie di numeri reali hanno le stesse proprietà dei vettori che possiamo disegnare nel piano, ha da poco dovuto osservare anche che in realtà invece di una coppia possa avere una ennupola, quindi già questo è un po', sì, è facile, però è un minimo di stabilizzare, e poi scopre che pure le funzioni hanno esattamente, soddisfano le stesse proprietà, quindi sono spazio del progetto. in realtà non è difficile, però va fatto questo esempio. Adesso torniamo indietro. Oggi dobbiamo introdurre sugli spazi vettoriali un concetto importantissimo, che è il concetto di dipendenza e indipendenza lineare. Prima di fare questo, voglio dire un'altra cosa, in questi esempi che abbiamo fatto, chiaramente noi dovremmo verificare tutte quelle proprietà che abbiamo scritto lunedì sulla lavagna, cioè dobbiamo verificare che i vettori si possono sommare, che rispetto alla somma sono un gruppo abbelliano, che poi si possono moltiplicare per uno scalare e che valgono le proprietà del prodotto penoltario. In realtà non è così difficile farlo e non va fatto sempre, in questo senso. Faccio quindi prima un esempio 4 e poi passiamo al concetto di dipendenza e indipendenza lineare. Esempio 4, prendiamo W, l'insieme delle F di classe C1 su AB, a valore in E. Che vuol dire di classe C1? Quindi che hanno, non solo sono continua loro, ma hanno anche la derivata prima e che anche la derivata prima è continua. E' evidente che questo insieme è contenuto qua dentro, perché se C1 e anche C0. questo è uno spazio vettoriale, l'abbiamo osservato anche se non abbiamo fatto tutte le verifiche. Si capisce che le verifiche sono facili. E questo? Come si fa a osservare se questo è uno spazio vettoriale? Dovremmo rifare tutte le verifiche, lasciamo stare che in questo caso magari sono facili pure qua. Però, se ogni volta devo rifare tutte le verifiche, io ogni volta o devo perdere tempo o devo perdere un attimo a pensare se quelle verifiche sono facili o difficili, poi magari mi sbaglio e penso che siano facili, invece non è qualcosa di difficile. No, in realtà, una volta che noi abbiamo assodato che questo è uno spazio vettoriale, per capire che se questo è uno spazio vettoriale, non bisogna fare tutte quelle verifiche di lunedì, ma bisogna verificare solo due proprietà. Le due proprietà sono queste. Allora, diciamo per, vedi, allora, poiché, lo voglio scrivere bene stesso perché così, poiché W è contenuto in V, che è uno spazio vettoriale su R, su R perché vi ricordo sempre che quando parliamo di spazio vettoriale spesso lo so che indegniamo deve essere sempre specificato il campo degli scalari che indegniamo, dei numeri che indegniamo. Per verificare che W a sua volta sia uno spazio vettoriale, basta verificare, basta verificare quanto segue. Allora, prima proprietà, che è F appartiene a 1 8, G appartiene a 1 8, la seconda proprietà, lambda appartenente a R, perché abbiamo detto che siamo due a R, F appartenente a W, implica lambda F appartenente a W. Cioè, queste proprietà messe insieme si chiamano chiusura di W rispetto alla somma e al prodotto per uno spazio. Sarebbe a dire, io so che V è il mio ambiente, che condivide a W, V è uno spazio vettoriale. Poi, identifico in V un sotto insieme. Questo sotto insieme sarà uno spazio vettoriale a sua volta, quando capiterà così poi lo chiameremo sottospazio. Per verificare se è un sottospazio, cioè la stessa volta è uno spazio vettoriale, non serve verificare tutte le proprietà di lunedì, perché alcune, per esempio, le proprietà della somma le eredita dallo spazio grande. Cioè, se valgono, per esempio, se l'opposto di F è meno F, vale V, vale anche VW. Per esempio, se la somma è associativa in V, è associativa anche in VW. L'unico problema potrebbe essere che quando vado a fare le operazioni, ho degli rametti di W ed esco da W. Se succede questo è un problema, no? Se succede questo è un problema. E allora devo verificare esattamente queste due proprietà. cioè che le operazioni che posso fare io cosa sono? È la somma e posso moltiplicare per un numero, cioè moltiplicare per uno scalare. Allora, mi devo assicurare che se prendo due elementi di W, faccio la somma di questi vettori, rimango ancora dentro W. Mi devo anche assicurare che se prendo un elemento di W e lo moltiplicavo per uno scalare, rimango dentro W. Quindi, da verifichere e fare, si limitano a queste due. Quasi sempre, per verificare che una cosa sia uno spazio vettoriale, già stiamo in un ambiente grande che è uno spazio vettoriale, quindi quasi sempre basta verificare queste due proprietà. Cambieranno W e W, ma il discorso rimarrà esattamente lo stesso. È chiaro? Ecco, adesso la domanda è, in questo esempio qua, le proprietà sono verificate o no? Allora, traduciamo le domande, vediamo se qualcuno è in grado di riuscire a tradurre le domande. Questa proprietà qua cosa mi dice? Che se io prendo due funzioni di classe C1, F e G, la somma deve essere ancora di classe C1. È vero o no? Sì. Perché sì? Perché la derivata della somma, come si fa? È la somma delle derivate. Ma se le derivate sono, se la funzione è di classe C1, la sua derivata è continua. quindi F' è continua, G' è continua, F' è più G' la somma delle due funzioni di continua e continua e stiamo apposta. Poi, se prendo una funzione di classe C1 e la motivo per una costante, risulta di classe C1 ancora? Sì. Perché quando faccio una derivata, le costanti si portano fuori. E quindi, queste due proprietà sono praticamente immediate da fare, non scrivo niente. Immediate da verificare, non scrivo nulla. Quindi, questi sono due esempi che, insomma, in qualche modo, sono diversi da quello che abbiamo visto noi lì, ma sono due esempi di spazi vettoriali che ha, diciamo, a pieno titolo. Va bene? Ok. Adesso possiamo tornare lì. Adesso, torniamo ad avere uno spazio vettoriale V. Poi vedremo V, quindi vedremo uno spazio vettoriale generico. Tuttavia, per un attimo, pensiamo che sia il caso dei vettori geometrici. a lui. Allora, prendiamo i vettori geometrici nel piano. Allora, prendiamo i vettori geometrici nel piano. prendiamo un vettore. e, partendo da solo questo vettore, cominciamo a fare tutte le operazioni che possiamo fare, grazie, grazie alla somma e al prodotto per uno scalare. però, però, diciamo, operando, ci posso mettere sempre e solo il vettore V, più tutto quello che riesco a ottenere quando faccio queste operazioni. Allora, una prima cosa che posso fare, io prendo V, qual è il vettore più facile che posso ottenere partendo da V? facendo, per esempio, moltiplicando per lo scalare. Eh? Prendo V, moltipliciamo per lo scalare, per quanto vogliamo moltiplicare? 2? Va bene. non è, ho ottenuto, questo vettore qua. non è la scelta più ovvia, la scelta più ovvia è una? è 0. è 0. 0 per V quanto fa? il vettore V. fai il vettore V. Attenzione, questo è 0 senza trattini. qua V, se volete indicare che in matematica, normalmente non ce lo mettiamo sempre la freccetta, eh? però se in fisica, ci metterà la freccetta. In matematica, i vettori ce l'hanno sempre lettere, U, V, W, W, però quando ci metto lo 0, per indicare che invece è il vettore nullo, e poi ci metto il trattino sotto. E questo lo posso pure dimostrare, che viene il vettore nullo, eh? l'abbiamo detto. Quindi, io ho preso V, se lo moltiplico, però, per uno scalare, è chiaro che io posso ottenere 2V, 3V, radice di 2 per V, ma anche il vettore nullo, ma anche meno V. Che proprietà hanno tutti questi vettori? Che proprietà hanno tutti questi vettori? E cioè, alla fine, stanno tutti? Con la stessa letta. Però, abbiamo sfruttato solo il prodotto per scalare, qualcuno potrebbe dire, prendiamo 2 di questi vettori, facciamo la somma. Però, se prendo, per esempio, se adesso faccio 2V, più 3V, quanto viene? 5V. Quindi, anche se faccio la somma, cambia poco. Alla fine, quando faccio tutte queste operazioni, anche se ci metto tutti i possibili risultati delle operazioni precedenti, non uscirò mai, da questa retta. Vedremo poi, forse oggi stesso, che si dia che V genera una retta di V. però, questo succede sempre? Succede proprio sempre? Nel senso, io prendo un altro vettore W, e va bene, invece di generare quella retta là, avrò che tutti i multipli, o le somme dei multipli, o i multipli delle somme, eccetera eccetera, che saranno tutti sulla retta, un doppio, genera un'altra, ma sembra una retta genera. Sempre sempre? o c'è un caso che non va bene? Se io prendevo come V, chi volevo prendere? Vettore nullo. Vettore nullo. Prendiamo come V, come U, mettiamo U, uguale al vettore nullo. Mo' moltiplicate per lambda, lambda U, quanto fa? Mo' potete fare tutti i multipli che volete, ma il vettore nullo, il multiplo è sempre il vettore nullo. Poi potete sommare il vettore nullo, quante volte vi pare, ma è sempre il vettore nullo. O no? Ah, il problema si complica. Cioè nel senso, abbiamo detto, se io prendo un vettore V, e poi faccio somme, prodotti per scalare, o metto come operandi quello che viene, dalla relazione precedente, posso ottenere, questo intuitivamente, poi lo dimostriamo, tutti i vettori, che sono allineati con Mu, che hanno la stessa dimensione V, cioè che stanno, diciamo nel piano, partendo dall'origine, sono contenuti sulla stessa dimensione. Tutti e soli quei vettori. Ma, c'è un'eccezione. Se il vettore di partenza era nullo, e no, è col fischio che ottengo tutto ciò, non mi muovo, dal vettore nullo. Beh, insomma, è un'eccezione che però si capisce, da dove viene fuori, quindi... E allora, complichiamo la prima situazione. Andiamo a cercare di fare la stessa cosa, però con due vettori, con V e W. Allora, che sono, per adesso prendiamo i vettori che ho disegnato qua. Beh, se io agisco separatamente con V e W, con V genera la lette di vettore che passa per V, con W genera la lette di vettore che passa per W, però io ho solo la moltiplicazione per scalare, teoricamente ho pure, teoricamente ho pure la somma. E quindi? Quindi che cosa posso fare? Posso fare, per esempio, V più W, o no? Se faccio V più W, per esempio, ottengo questo vettore qua. Facciamo in modo che sia questo qua. però cosa potrei fare? Potrei fare V più 2 W. E allora, otterrei quest'altro lettore qua. Quindi in realtà, già ne ho ottenuti, almeno, stante la mia scelta per V e W, già ne ho ottenuti 4, che hanno direzioni diverse. Ci sta V, ci sta VW, V più W, V più W, V più W, riuscirei a vedere quali, poi una volta che avrò ottenuto quelli, moltiplicando per uno scalare, otterrò tutti i vettori che stanno su questa retta, su questa retta, su questa retta, su questa retta, vediamo se l'inturro vi porta a qualche parte. se io in realtà, diciamo, faccio sia le somme, sia i prodotti per scalare e, diciamo, combino le due operazioni, infatti quella che faremo, si chiamerà proprio combinazione lineare, cioè le combinazioni di somme e velocità di scalare. Quali vettori potrò ottenere, partendo da V e W? Se parto da V e W, cosa posso ottenere secondo voi? Abbiamo già detto, posso ottenere questo, 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 questo. Quest'altro lo posso ottenere? No, no, anche quello lo posso ottenere. Come lo posso ottenere? meno 2V o meno 2, qualcosa, V, fate, fate così, create questo paralogramma. Allora, vedete? questo che sarà un mezzo V doppio, per esempio, meno 2V. Regola del paralogramma, la somma di questi due vettori da questo vettore è 4. Allora, supponiamo che il disegno sia fatto bene, in questo sia la metà di questo, allora abbiamo un mezzo V doppio, ma un mezzo è un numero, lo scalare? Sì, come no? E questo quant'è? è due volte V, però dall'altra parte, quindi è meno 2V. Allora, anche questo lo posso ottenere. E allora quali posso ottenere? A, li posso ottenere tutti. Stando alla scelta che ho fatto io per il V doppio, posso ottenere tutti i vettori del piano. La domanda è, già in cui questo fatto è, diciamo, è utile perché poi ci farà capire il concetto del piano. Però la domanda è, ci sono situazioni eccezionali? Vediamo un po', ci sono situazioni eccezionali? Vediamo un po'. Ditemi una situazione eccezionale, una ci dovete vedere. Se i vettori stanno sulla stessa retta. Preferivo che mi diceste quella più eccezionale, comunque sì, mettiamo che i due vettori stanno sulla stessa retta. Allora questo è V e questo è V. I vettori sono allineati. Adesso se faccio somma ai prodotti per scalare, che succede? Io posso sommare e moltiplicare per uno scalare quanto mi pare, ma il problema è che da quella retta non uscirò mai. È chiaro questo o no? Per esempio, perché? Perché in realtà mettiamo che questo, per esempio, W sia proprio due v, per fare questo. Diciamo un esempio più semplice. Supponiamo che W era due, forse due. Allora se W era due v, io già lo potevo ottenere da v, bastava prendere un v molti, moltiplicando per due. Quindi W, in qualche modo, qua è utile, perché mi indica una direzione diversa da v, allora facendo quelle che vedremo saranno le combinazioni lineari, posso ottenere anche quest'altro vettore qua. Ma qua è inutile, perché già lo potevo ottenere prendendo v, moltiplicando per due. Perché non lo mettevo a fare a parte. Io prendevo v, lo potevo ottenere semplicemente prendendo v, moltiplicando per due. Ah, e questa è una situazione eccezionale. Quindi, se i vettori non erano allineati, vedremo che facendo quelle che chiameremo combinazioni lineari, otteneremo tutti i vettori del piano. Se i vettori invece sono allineati, facendo le combinazioni lineari, otteneremo solo i vettori di una retta. C'è una situazione ancora più eccezionale. Se tutti e due sono nulli. Se uno solo è nullo, l'altro sembra la retta della data. Il secondo, se solo v doppio fosse nullo, prendo v, moltiplico per zero, ottengo v doppio. Però v è diverso da zero dalla retta. Contenerebbe v, te la dà lo stesso, o no? Quindi, la situazione più eccezionale ancora ora, consiste nel fatto, in questo caso, in questo caso, mettiamo v doppio uguale 2v, e quindi, alla fine, poi generiamo solo la retta dei vettori passanti per v e per v doppio. Vediamo l'altro caso, questo è v doppio uguale v uguale v uguale a vettore nulle. E in questo caso, se facciamo somme, prodotti per scalare e combinazioni lineali, cosa otteniamo? sempre vettore nulle. Sempre vettore nulle. Ah! Allora la cosa è un po', è un po', è un po' antipatica, perché adesso se lo farò con tre vettori, è con tre vettori, vediamo un po', se prendo tre vettori, mettiamo le ripetere, allora, prendiamo i primi due, supprimiamo su v e v2, un terzo vettore mi può servire? Questo vettore qua mi può servire, servire che significa? Servire ad aumentare ciò che posso ottenere, ciò che posso, vedremo si chiamerà, generare. No! Perché già con v e v doppio, abbiamo detto, ci potevo, facendo le combinazioni lineali, potevo generare tutti i vettori del piano, quindi è inutile me lo prendo nel suo vettore. Se ne prendo tre, sicuramente ce ne sta uno che posso togliere. però, se ne prendevo tre allineati, che succedeva? Che c'è uno che posso togliere, anzi, qua ne posso togliere addirittura due, ma, nonostante fossero tre addirittura più di quelli di prima, sembrano le rette generale, perché stanno tutti sulla stessa rette, quindi la situazione diventa un po' complicata. Io prendo un certo numero di vettori, poi, per esempio, se siamo nello spazio, la cosa cambierà un po', nel senso che non sarà più vero che tre il terzo è inutile, per forza. nello spazio, se ne ho due, sto su un piano, io prendo, come vedete, qua state sul piano della lavagna, e se questo piano lo mettete dentro tutto lo spazio, state sempre sul piano della lavagna, perché quando fate le somme pronti per scalare, non mi muovete da piano della lavagna, insomma, la cosa si complica. Allora, se si complica, e io, mano a mano, che crescerà quella che vedrete, che poi si chiama una dimensione, devo, in qualche modo, gestire sempre più situazioni eccezionali, come faccio? Diventa complicato. ci vuole qualche concetto che individui esattamente la proprietà chiave, qualche proprietà chiave di questi vettori, cioè mi dica se c'è qualche vettore inutile, nel senso che lo posso generare dagli altri con una combinazione linea. Vedete che non è facilissimo, però piano piano ci stiamo arrivando. Stiamo arrivando che significa? significa che adesso io do delle definizioni. Do delle definizioni. La definizione, in sé per sé, non c'è nulla da capire, tranne il fatto di come ci sia arrivato a quella definizione, perché non è che uno si sveglia la mattina e si inventa una definizione così. quindi, la definizione non è un teorema, non c'è nulla da dimostrare, non c'è nulla da dire, è così perché? c'è soltanto da capire perché si vuole dare quella definizione, qual è lo scopo di dare quella definizione. quali sono le definizioni che voglio dare? quali sono le definizioni che voglio dare? uno sotto insieme dv costituito da k o h, se vi piace il più h mettete a, da k vettore. k vettore dv. Allora, la definizione è uno. A volte si chiama k vettore o un sistema di k vettore. Mettiamo la definizione, la definizione è una definizione sia, siano v1vk k vettore dv oppure sia v1vk un sistema di k vettore dv alla stessa cosa. Si chiama, si dice combinazione lineare lineare di v1vk ogni vettore del tipo v uguale somma per i che va da 1 fino a k k quindi lambda i dove lambda i appartiene a k k perché questo è uno spazio vettoriale generico quindi in realtà sia v uno spazio vettoriale sul corpo k quindi può essere uno spazio vettoriale reale, compresso, sul gambo finito quello che ci fa però quando scrivo k significa che uno spazio vettoriale sul corpo k voi comunque pensate a uno spazio vettoriale reale non vi sbagliate per adesso faremo solo spazio vettoriale sul sul campo ok? quindi cos'è una combinazione lineare? una combinazione lineare è un oggetto che si costruisce così prendo ciascuno dei vettori da Q sono partiti lo moltiplico per un numero cioè per uno scalare un elemento di k e poi faccio la somma ok? ok allora definizione 2 qua si dice si dice spen di u1 uk questo per definizione ci trovo si dice che ci scrivo uguale ad f è la stessa cosa allora a volte quindi questo è uguale ad f viene definito da quello che sto per scrivere a destra a volte invece di uguale ad f potete trovare anche in matematica due punti uguali due punti uguali è ancora più preciso di uguale per definizione perché significa che io sto definendo la quantità che sta scritta a sinistra lo stanno in due punti l'insieme di tutti i v appartenenti a v tali che v è uguale a somma per i che va da 1 a k di la quindi chi è lo spen di v1 vk è l'insieme di tutte le possibili combinazioni linee allora direi no direi no direi no banale ma direi se non direi mai bene che vorremmo sia v uno spazio vettoriale sul corpo K o K grande il K o K picco in generale niente K picco è un numero che ho stabilito siano v1 vk dei vettori di v allora span di v1 vk è uno spazio vettoriale sempre sul caso qua lo chiameremo sottospazio vettoriale D abbiamo lo spazio vettoriale, abbiamo preso K vettori facciamo quello che abbiamo chiamato SPEN cioè tutte le possibili combinazioni lineali e otteniamo un sottoinsieme di V ora io, fate il caso, l'ho chiamato sottoinsieme perché ancora non ho dimostrato che sia un spazio vettoriale nel momento in cui dimostro che è uno spazio vettoriale a sua volta è un sottoinsieme, quindi è contenuto in V è uno spazio vettoriale a sua volta come lo potrete chiamare una cosa che sta dentro uno spazio è ancora a sua volta uno spazio un sotto spazio insieme a l'altro sotto spazio vettoriale ok? allora, vediamo un po' se ci avete capito qualcosa fino a ora che devo dimostrare per dimostrare che si tratta di uno spazio vettoriale? che devo verificare? ho fatto piano piano, lento lento eh piano piano, lentamente, lentamente devo dimostrare? quali proprietà? che se prendo due elementi di questo span la somma è ancora nello span quindi se prendo due combinazioni lineari e faccio la somma è ancora una combinazione lineare se prendo una combinazione lineare e la motivo per uno scalare è ancora una combinazione lineare lo ricordate? per dimostrare una cosa siccome stiamo tenendo uno spazio grande per dimostrare che lo spazio vettoriale è avvolto basta dimostrare che è chiuso cioè, che se faccio la somma se motivo per uno scalare non esco da questo ok? allora, quindi, dimostrazione allora, basta verificare che se v e v doppio appartengono allo span di v1 qk allora, q più v doppio appartiene allo span di v1 qk e questa è la prima proprietà allora, 1 e poi ci sono pure 2 però 2 che dice che se lambda appartiene a k e v appartiene allo span di v1 vk allora, lambda v appartiene allo span questo devo verificare non devo verificare altro allora, verificare allora, prendiamo la 1 dimostriamo la 1 allora, v sarà una combinazione lineare, no? quindi sarà del tipo somma per i che va da 1 a k di lambda con i v con i ma anche vedete, v sta nello spegno vuol dire che è una combinazione lineare questi lambda con i si chiamano coefficienti della combinazione lineare quindi, per esempio, quando v per esempio, se avessi solo v1 v2 v1 uguale 3 v1 più 2 v2 chi sono i coefficienti della combinazione 3 e 2 v2 a sua volta come sai di che tipo sarà? sempre nello spegno deve stare quindi come sarà? come posso scrivere? sommatoria per i che va da 1 a k di chi? che ci metto qua? un'altra volta lambda con i? no un'altra lettera quale lettera? in greco, dopo lambda, che ci metto? mi quindi, mu con i però sempre v con i perché è una cosa spegno ma sempre degli stessi vettori quindi, somma di lambda i v con i e quindi, somma di lambda di mu con i v con i è chiaro? quindi, queste sono due combinazioni linee generiche o, se non vi rinacciamo lambda e mi o lambda e mu potrete mettere alfa i, beta i in genere i coefficienti delle combinazioni li indichiamo con delle lettere greche così non facciamo confusione in scalare indichiamo con lettere greche i vettori li indichiamo con lettere latine u, v, w oh, ci saranno tutte le situazioni in cui saremmo in difficoltà per mancanza di lettere però non adesso adesso se faccio v più w w v più w w questo come si scrive? questo lo scrivo per esteso per intanto questo simbolo di sommatoria serve soltanto a scrivere in maniera più compatta, no? quindi qua scrivo lambda 1 v1 più lambda 2 v2 più più lambda k vk più mu o mi 1 v1 la mu potete pronunciare mu o mi come mi pare piace però quando usate la ni o dite mi e ni o dite mu e nu per una questione di coerenza più mu 2 v2 più mu k vk io cosa so? che la somma è con mu da? mu da d quindi posso scrivere lambda 1 v1 più mu 1 v1 cioè metto vicino i termini che hanno lo stesso vettore qua v1 e v1 poi metterò più lambda 2 v2 più mu 2 v2 più puntini bruttini gli ultimi saranno lambda k vk più mu k anzi scrivo questo quello a questo quello a questo sto usando non è proprio una scrittura bustrofele ok ok adesso faccio poco poco spazio qua perchè ho quasi finito questa dimostrazione di questa proprietà cosa faccio? se vi ricordate io potevo avevo la proprietà distributiva a sinistra e destra quando facevo il prodotto per uno scalare cioè questo io posso scrivere lambda 1 più mu 1 parentesi per v quindi qua posso scrivere lambda 1 più mu 1 parentesi per v1 più più lambda k più mu k per vk vabbè non ho scritto il secondo ma dopo si capisce fate attenzione che è vero che questa dimostrazione è molto facile però essendo la prima sto facendo un po' tutti i passaggi ma soprattutto anche per far vedere che questa questa somma qua che cos'è? dove opera questa somma? in v questa è la somma di vettori di v questa somma qua dove opera? in k quindi si usa lo stesso simulo ma sono due cose diverse abbiamo visto no? se faccio 3v più 2v viene 5v o faccio prima la moltiplicazione per 3 per 2 poi faccio la somma in v o faccio prima 3 più 2 che fa 5 in r poi moltiplici per v saremo uguali quindi ci abitueremo a questa cosa però non ci dobbiamo mai dimenticare che questo è più una cosa e questo è più un'altra cosa quindi se diciamo alla fine bisogna procedere con una certa celerità però bisogna perchè poi certe volte i dettagli però alla fine sono importanti quindi alla fine io cosa posso scrivere? posso scrivere somma per i che vada 1 a k a notazione più compatta lambda i più v con i per v con i o no? questo è il primo poi c'è il secondo poi c'è il terzo poi c'è il terzo poi c'è il k ma questa che cos'è? è una combinazione lineale? è certo lambda i più mu con i questi sono elementi di k quindi sono dei coefficienti invece di essere generici sono la somma di quelli primi invece di essere lambda i o mu con i quindi scegliamo che comunque sono la somma di k poi ci sono dei vettori v1 vk quindi questo appartiene a quello che abbiamo chiamato spenn di v1 vk ok? quindi se prendo due combinazioni lineari la loro somma è ancora una combinazione lineare è semplicemente una combinazione lineare che si otteneva prendendo come coefficienti non lambda i non i mu con i ma la loro somma per ogni basta scrivere e via purtroppo l'ordine di scrittura non è il mio forte ho dimostrazione di 2 la scrivo qua per non cancellare ulteriormente il pezzo di dimostrazione di 2 stavolta che devo fare? devo fare il prodotto per non scalare quindi ho v che è uguale a somma per i che va da 1 a k di lambda con i v con i e poi prendo un elemento di k che chiamere mu per non confondermi con lambda i potremmo chiamarlo pure lambda però lambda e lambda i viene brutto lo chiamiamo se adesso vado a fare mu v questo chi è? è mu per somma per i che va da 1 a k di lambda i v con i questo è uguale beh il prodotto per uno scalare distributivo a destra quindi viene somma per i che va da 1 a k di mu lambda i v con i e questa mu per lambda i v con i posso anche scriverlo così perchè c'è la quell'ulteriore proprietà che se devo fare prima lambda i per v con i e poi devo moltipliare per v o faccio prima mu per lambda i e poi devo moltipliare per v v con i se vi ricordate abbiamo scritto ieri che era la stessa cosa quindi vabbè qua sarebbe uguale senza questa parentesi diciamo la parentesi sarebbe di qua poi lo riscrivete cioè i passaggi sarebbero questi il secondo passaggio sarebbe così e poi uguale al terzo passaggio devo riscrivere la stessa cosa ma le parentesi sono passate così siccome io ho il gesto e la lavagna la posso fare voi invece di cancellare scrivete un passaggio e quando sono arrivato qua cosa ho scoperto? ho scoperto che se avevo una combinazione lineale e se la moltiplico per mu cosa ottengo? di nuovo una combinazione lineale quindi questo qui appartiene a quello che abbiamo chiamato spen dv quindi fine della dimostrazione io queste due proprietà dovevo verificarle le ho verificate cosa ho dimostrato? ho dimostrato che spen di v1vk è uno spazio vettoriale quindi posso dare la seguente definizione 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 3 che non è una definizione alternativa rispetto a questa è come io parlo lo chiamo spen di v1vk spen di v1vk è sempre quell'oggetto là però spen di v1vk si chiama spazio vettoriale generato 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 v1vk ok? è lo spazio vettoriale generato da v1vk cioè io non sto definendo questo questo è già definito sto definendo questo quando dico spazio vettoriale generato da v1vk intendo dire esattamente spen di v1vk è chiaro? allora però dici ma hai chiamato spazio vettoriale? eh si lo posso fare perchè ho verificato che è lo spazio vettoriale qui c'è questa definizione così viene data normalmente però dovete stare attenti perchè ci sono delle sottigliezze quando facciamo le definizioni queste cose le ho fatte in analisi 1 e dovete vedere che in prime lezioni ci stanno ma adesso siccome è capitato ve lo sottolineo anche perchè si sembra facile tutto sembra facile quando non acchiatti in qualche qui c'è il problema in questa definizione io non la posso fare prima di aver fatto quel teorema che ho fatto un minuto fa per quale motivo? se lo chiamo spazio vettoriale e poi non è uno spazio vettoriale c'è un problema io so che una cosa è uno spazio vettoriale cioè quando verifica certe proprietà se dico che una cosa è uno spazio vettoriale devo assolutamente sapere che verifica quelle proprietà terremolo verificato e quindi questo adesso lo posso chiamare spazio vettoriale generato esattamente quello sto facendo altrimenti ho quello che si chiama il paradosso dell'etichetta cioè in come noi chiamiamo le cose etichettiamo le cose queste sono insite diciamo presupposte presupponiamo delle proprietà faccio un esempio faccio due esempi che ho fatto come una cosa se anni fa c'era una pubblicità e questo fatto si usa spesso in pubblicità in quel caso era la pubblicità di una scopa per spazzare per te si chiamava Tommaso la scopa ficcanaso ora cosa suggerisce? se io chiamo la scopa ficcanaso che succedisce? l'idea che si infila bene negli angoli ora questa è una proprietà facile da verificare se io chiamo Tommaso la scopa ficcanaso e poi vedo che la scopa è fatta tonda no chiaro? perché qual'è il problema? è che la proprietà che suggerisce deve essere poi verificata se no c'è un problema se no c'è una discordanza tra quello che capisco dal nome e quello che la cosa fa veramente nel caso di Tommaso la scopa ficcanaso quel nome è facile da verificare se la scopa pulisce bene gli angoli quindi è un diciamo boomerang per il produttore della scopa se mi dice che è ficcanaso e poi invece non ci pulisce bene gli angoli però a cosa serve? serve al produttore che dice guarda che la mia pulisce bene gli angoli non lo so se le altre lo fanno quindi ricorda di comprare quella e non un'altra lo fa per quella vediamo un altro esempio se io adesso faccio se fossi al posto di chi ci sta adesso insomma non ci leghiamo le mani con chi ci sta adesso perchè poi il corso deve funzionare l'anno prossimo fosse il presidente del consiglio e dovessi fare una legge per lo sviluppo economico la chiamerei legge per lo sviluppo economico o legge per la definitiva catastrofe economica dell'Italia la chiamerei nel primo modo o nel secondo modo? la chiamerei sicuramente nel primo modo poi bisogna vedere se gli effetti sono quelli auspicati o se invece io ho le mie idee le vado a mettere in pratica definiti la catastrofe chiaro? quindi di questi fatti diciamo al di là di chi ci sia o chi non ci sia al governo ma anche su leggi meno importanti cioè uno va con un'intenzione poi scopre che va a fare una cosa e scopre che invece il provvedimento funziona tutto a contrario nella pratica quindi lì però c'è un anche se magari a volte si sa pure che ci sono più conseguenze delle quali solo qualcuna è positiva e alcune altre magari sono necessariamente negative però la chiamere sempre diciamo in base alle caratteristiche positive perché se no quello purtroppo la legge la deve fare in ogni caso ma se la dice già lui che la legge è negativa sottolinea le caratteristiche negative il voto col fischio io gli lo danno la prossima volta non so è chiaro? quindi paradosso dell'etichetta attenzione se io do un nome e quel nome corrisponde è una certa proprietà o una lista di proprietà che deve essere verificata in matematica lo devo verificare prima lo devo controllare questa cosa nella vita reale spesso non non si fa un'altra cosa siccome ci siamo capitati ma io dico pure questa ripetizione se me ne andassi uno un altro paradosso che capita spesso più che paradosso è quello che si chiama domanda complessa ma è capitato di parlare di politica quindi questa è una cosa che tutti i politici sanno e voi non sapete almeno la definizione non la sanno manco loro però sanno come uscirse da questo problema domanda complessa questa è la situazione nella quale una domanda presuppone un'affermazione quindi in realtà a volte l'affermazione è nettamente prevalente rispetto alla domanda facciamo un esempio se io e lui siamo in un dibattito elettorale a un certo punto io lo attacco dicendo ma la smetti di dire bugie? come si risponde? si o no? il problema perché domanda complessa? questa qua è complessa perché è fatta i due parti la prima parte è un'affermazione tu stai dicendo bugie punto la smetti di conseguenza quando dici la smetti stai presupponendo l'accettazione della prima parte allora come si fa a rispondere a questa domanda? cioè se rispondi si o no sei caduto nella trappola perché ovviamente è accettata la premessa uno può rispondere ma io non dico bugie però in realtà la risposta migliore visto che ti ha dato la possibilità devi ribaltare completamente la situazione dice ma siete sempre stato da vostra parte a dire bugie no? capito? quindi fai subito presente che hai capito la cosa e la ribalti allora di queste cose se ne stanno avanti però non è il nostro obiettivo allora riassumiamo un attimo e poi facciamo 5 minuti di pausa allora cosa abbiamo fatto quest'ora? abbiamo dato altri due esempi di spazi vettoriali di funzioni perché ci stanno qui di spazi vettoriali di funzioni e poi abbiamo introdotto il concetto di combinazioni lineare e abbiamo fatto vedere che le combinazioni lineare di un certo numero fissato di vettori sono a loro volta uno sottospazio vettoriale cioè uno spazio vettoriale contenuto uno spazio vettoriale ecco una domanda a questo esercizio potrete rispondere secondo voi adesso se io prendo il piano inteso come generato dai vettori geometrici lo spazio vettoriale di tutti i vettori che stiamo sul piano quali sono i possibili sottospazi vettoriali del piano? eh? chi sono? basta riflettere e mettere insieme quello che abbiamo fatto in x chi sono i possibili sottospazi vettoriali del piano? allora pensate agli spazi se ho un vettore che sta in uno sottospazio vettoriale io posso sempre con questo vettore generare gli altri quindi così come questi sono sottospazi vettoriali di v tutti almeno in questo caso tutti i sottospazi vettoriali di v sono di questo tipo qua in realtà se io prendo il piano dei vettori geometrici tutti i suoi sottospazi vettoriali sono spendi qualcosa e allora cosa possono essere? cosa posso ottenere io facendo lo spendi qualcosa? guardate non è che ho tante possibilità eh? pensato alla situazione più eccezionale partivo dal vettore faccio lo spendi a te è un sottospazio vettoriale? si questo è u poi partivo da un vettore non a nulla faccio lo spendi cosa a te? passante quindi già vedete che in un sottospazio vettoriale l'origine ci deve sempre stare a perché se ci sarà un vettore moltiplici avrei bisogno di ottenere un vettore nulla ok quindi ok il sottospazio vettoriale del piano su o il vettore nulla o una retta che passa per l'origine oppure una retta qualunque cioè questa qua quella là dipende dal vettore P oppure se qualcuno ha detto il piano stesso questo se partivo da due vettori non allineati e te ne mettiamo altre possibilità non ci stanno o vediamo adesso sempre per analogia e poi ci fermiamo veramente per la pausa i sottospazi mettiamo che di avere lo spazio in E3 dei vettori geometrici anche lo spazio lo posso vedere invece invece i vettori li posso mettere invece che solo sulla O posso avere le direzioni che mi vanno in tutto lo spazio in fisica lo chiamate spazio tridimensionale poi vedremo che in giovedì sarà tridimensionale però non volevo dire tridimensionale ma lo dico tridimensionale secondo voi i sottospazi dello spazio quali sono? non è su un quadrante non è su un quadrante se io ho un quadrante pensate al piano se ho un vettore che sta qua ci deve stare qui un vettore che sta dall'altra parte quindi un quadrante non va bene quindi abbiamo detto quelli che ci stanno qui ci stanno pure mu quindi l'origine vettore 1 è un sottospazio vettorial di R2 ma anche di R3 cioè dei vettori geometrici del piano ma anche dei vettori geometrici dello spazio poi le le rette passanti per l'origine l'unica differenza sarà che nel piano le rette passanti per l'origine sono come si chiamano? un fascio di retto nello spazio sono eh non solo un fascio si chiama un altro modo una stella di retto perché non ci stanno solo quelle che vanno nelle direzioni del piano ma quelle che vanno nelle direzioni del spazio quindi abbiamo detto vettore nulla le rette passanti per l'origine e poi siamo allo spazio stesso lo spazio stesso va bene chi ci sta in mezzo? ci sta un'altra cosa? quali piano? passanti per l'origine se io prendo nello spazio tridimensionale supponiamo di fare qui tre assi cartesiani cartagonali se prendo due vettori adesso non allineati e vado a rifare quello che facevo prima otterrò quello che otterrò sarà sempre sul piano magari questo piano passerà sempre per l'origine però magari sarà ingrinato prendete il piano che condiene quei due vettori se voi prendete tre tre v più due w meno v più w tutte le possibili combinazioni che volete fare non uscite da quel piano è chiaro? perché quando io vado a fare combinazioni sempre su questo piano stanno sono due vettori che stanno su questo piano e se rimango sempre su questo piano regola il parallelogramma il parallelogramma sta sul piano è chiaro? bene bene quindi cosa avrò? i sottospazi vettoriali di R3 diciamo dei vettori didimensionali lo spazio saranno l'origine le rette passanti per l'origine i piani passanti per l'origine e lo spazio stesso adesso ora secondo voi ci manca ancora un bel pezzo prima di arrivare alla dimensione ora secondo voi le rette che dimensione ha? intuitivamente rispondete quello che vi dice l'intubio una rette che dimensione ha? voglio un numero che dimensione ha? zero, uno, due, tre, cinque, sette uno un piano due due lo spazio? tre e il vettore null? zero è intuitivo o no? poi vedremo perché poi vedremo perché noi dobbiamo adesso rispondere a questa intuizione cioè nello spazio quando avrò diciamo i sottospazi corrispondenti alle rette o ai piani uno spazio uno spazio uno vettore nullo avrò delle dimensioni e queste dimensioni saranno zero per un vettore nullo uno per le rette due per i piani e tre perché per arrivare a capire perché dobbiamo introdurre il concetto di dipendenza e indipendenza lineare chiaro? va bene adesso ci fermiamo cinque minuti